Ok, via! Buongiorno direttore, iniziamo insomma dal posto in cui ci troviamo, il Space, tra pochi minuti sarà questa assemblea d'istituto, secondo lei che giornata sarà, insomma è un appuntamento comunque particolare? Sì, è una bella iniziativa quando si coinvolgono i ragazzi, io credo che le scuole sia sempre una cosa, una bella cosa, arrivi vicino a questa squadra, a questa società, alla gente, al mondo dello studio, al mondo della scuola, che secondo me è un passaggio fondamentale anche per proprio riavvicinare le persone al calcio, che poi è uno sport, è un gioco, però ovviamente ha anche una funzione sociale importante, quindi credo che sia un bellissimo appuntamento, infatti siamo presenti in forze massicce perché riteniamo una cosa importante per il progetto che stiamo parlando avanti con la società, insomma. Magari proprio il mondo delle scuole, anche in futuro sarà importante, tra virgolette, batterlo proprio perché è anche un possibile serbatoio di nuovi tifosi. Io credo che partire dalla scuola sia determinante proprio per creare futuri tifosi, futuri persone che vengono allo stadio, che capiscono questo mondo, che capiscono quanto è importante anche se in realtà sembra sempre solo un gioco, lo sport è un momento di aggregazione, la gente sta insieme, si diverte, quindi credo che sia un messaggio positivo del calcio, bisogna partire da darlo dalla scuola perché non diventi solamente la gente che si aspetta e magari fanno cose strane a fine partita. Credo che dobbiamo noi per primi dare dei segnali positivi perché il calcio può essere un veicolo di aggregazione importante per le persone. Veniamo invece ora alla parte un po' più legata al calcio giocato, marcano appunto 3-4 partite alla matematica promozione, speriamo che appunto vada tutto bene. I giocatori, ne abbiamo parlato con loro per quanto riguarda il futuro, ovviamente per il momento non sanno ancora nulla, quindi la domanda è, ci dice la vostra lista di chi resta, chi forse, chi va? Ci siamo dati una linea nel senso che l'obiettivo era il campionato e credo che ci siamo dati questa linea nel senso che non abbiamo voluto parlare né con i procuratori né con i giocatori prima dell'ottenimento del risultato. Credo sia una cosa corretta, dopodiché i giocatori saranno i primi a essere convocati e chiaramente ogni giocatore verrà fatto il discorso in base all'orientamento che ci siamo fatti in questa stagione. Quindi mancano tre gare, quattro, cinque, quelle che mancheranno, concentriamoci sull'obiettivo. Io ritengo che la conferma o la non conferma è importante perché è il loro lavoro, è il nostro lavoro, però non diamo niente di scontato e concentriamoci su San Marino. Io fino a quando questo campionato lo portiamo a casa è bene stare sul pezzo, non mi piace distrarmi e pensare ad altre cose in questo momento. L'ultima da parte mia a proposito di dare qualcosa per scontato. Abbiamo letto in diverse interviste che Guazzo parla del fatto che lui dice ho fermato un biennale, questo credo che sia una cosa impossibile anche per regolamento, però parla spesso che lui è venuto qua per il prossimo anno. Da questo punto di vista ci può spiegare un attimo meglio quello che può essere l'accordo con giocatori come lui, Miglietta o comunque giocatori di questo tipo? Ma sono giocatori che sono 6 di categoria, ne abbiamo fatto un accordo come quello che consente al regolamento, cioè c'è un accordo che prevede un accordo annuale. Per quel che riguarda la posizione del discorso biennale ci sono fatti dei discorsi, però chiaramente questi discorsi poi vanno rifatti a fine campionato, non c'è niente di scritto, niente di ufficiale perché non ci può essere un ufficiale, quindi a fine campionato li parleremo e se i giocatori come io ritengo hanno fatto il loro dovere non verranno a fare, non c'è biennale in questa categoria. Senta il direttore, buongiorno, ma di là del fatto che bisogna stare comunque cauti per il raggiungimento dell'obiettivo, qualche partita di dimensione diversa la state cominciando a guardare, che cosa c'è di diverso dalla Serie D quando si sale di categoria? Ovviamente non è che possiamo neanche stare con le mani nelle mani, diciamo, girarci i pollici, è ovvio che stiamo anche valutando quello che c'è di sopra, è un campionato che io conosco bene perché ho fatto l'anno scorso, però è ovvio che andare a rivedere soprattutto quello che sta succedendo quest'anno, soprattutto le squadre che giocano per il vertice e rendersi conto dei valori che abbiamo noi per confrontare un po' anche la differenza che ci può essere tra questa categoria e l'altra. La grande differenza che io noto, e non parlo di Parma, perché secondo me noi siamo più vicini alla Lega Pro come squadra che alla Serie D, ma in generale la Serie D è un campionato dove gli attaccanti non sono i più importanti, nel senso che ci sono dei giocatori in Lega Pro, nelle squadre, 5-6 squadre vincenti, veramente di spessore. Questa è la grande differenza che ho notato. Poi, diciamo, da centrocampo in giù, secondo me, la differenza è un po' minore. Però, negli attaccanti in particolare, soprattutto le squadre che giocano per vincere, hanno almeno 4 attaccanti di spessore che si possono alternare con equivale valore. Quindi questa è una considerazione importante nelle due categorie. Io volevo una sua considerazione in merito a una dichiarazione di Alessandro Lucarelli che ha detto se la società costruisce una squadra per andare a puntare alla vittoria della Lega Pro, io vorrei chiudere in bellezza, vorrei chiudere con una vittoria. Lei che deve comunque costruire la squadra è uno di quelli che deve costruire la squadra sia ogni notte. Come giudica, come valuta questa esternazione se davvero il Parma farà una squadra per andare a vincere subito? Io ritengo che a breve ci sarà un incontro da parte, diciamo, delle persone che hanno gestito quest'anno l'area tecnica in mercato e con la proprietà e la proprietà ci darà, se saremo noi chiaramente a continuare, perché bisogna anche per partire dal punto A, se saremo noi a continuare questo percorso, ci darà un budget su cui lavorare e quindi in base a quello sapremo anche che tipo di campionato potremo andare a fare. Quindi noi siamo in attesa, chiaramente come la squadra, perché deve pensare al campionato e noi pensiamo al campionato, di avere indicazioni per la nostra conferma, ma prima, come dico, stiamo concentrati su San Marino e domenica, poi vedremo il resto. Comunque la conferma, l'area tecnica deve essersela per forza guadagnata. Costruire una squadra che non ha mai perso in pochi giorni. Tu dici delle cose corrette, però io credo che le decisioni è giusto che le prenda la società, cioè noi siamo dei dipendenti, pensiamo di aver fatto bene il nostro lavoro, però questo non significa in automatico che saremo noi a guidare l'area tecnica il prossimo anno. La giusta società faccia le sue riflessioni e poi nel primo incontro che faremo parleremo di programmi, di piani, ci metteranno a un tavolino e il direttore dire il soluzione. Però è giusto e corretto che sia la società a dire chi deve rimanere, non siamo noi a doverci a dire se rimaniamo o no. Insomma, credo che a breve avverrà questo incontro per programmare, immagino, spero con noi, la prossima stagione. Direttore, questo vale anche per il tecnico allora, per Apolloni, in questo caso, per il ragionamento che fa andare. Ma il ragionamento, allora, se andiamo in automatico, l'allenatore che dice che è un bel atto, non sarebbe, non stiamo parlando di niente, però voglio dire, però nel caso ci sono certe dinamiche, non so, adesso faccio l'ipotesi, se domani mattina il parla venisse affistato ad un'altra persona, potrebbe altre persone, quindi, cioè, stiamo parlando di situazioni che se vanno come la logica, diciamo, normale, è facile, è probabile che si continui con questa impostazione. Poi è giusto che la società scelga e decida se siamo noi le persone, però, come dico, lo dico perché è giusto che si chiede chi dica questa cosa, non perché io penso una cosa contraria, perché è giusto che sia così. Direttore, anche in chiave del futuro, anche la questione Under, state tenendo l'occhio ai giovani, ai libidi, si possono tenere, non tenere, anche se si è in caso, ci sono giovani che fanno al caso. Sì, secondo me, in questa squadra ci sono diversi giocatori pronti per fare la Liga Pro, insomma, direi che, come dicevamo all'inizio, non è stata una squadra costruita per questo anno e questo campionato, è stata una squadra costruita per avere una prospettiva futura anche nel rapporto. E credo che le conferme che ci sono sul campo poi si ripercuoteranno anche sulle conferme, perché hanno dimostrato di essere una squadra nettamente di categorie superiori. Prima parlava di budget, verrà stabilito ovviamente con la proprietà, dalla sua esperienza, secondo lei un budget per puntare comunque in alto? Quale può essere? Sai chi parla di 5, 7 milioni? Lo so, guarda, noi adesso ci stiamo guardando un pochino intorno e stiamo facendo qualche sondaggio sulle società, diciamo, quelle che hanno puntato a fare campionati di vertice, perché ci sono, secondo me, diverse possibilità. C'è la possibilità di dire fai una squadra nettamente superiore a tutte le altre e fai un investimento più importante degli altri, oppure fai un investimento in linea con le squadre che, diciamo, vogliono giocare per l'inizio del campionato, quindi ti metti in competizione con le altre 4 o 5 squadre quelle che saranno. Oppure dici no, dobbiamo essere più bravi, lavoriamo con meno e cerchiamo di essere competitivi. I ragionamenti sono diversi che si possono fare, le cifre le stiamo valutando adesso perché in base al girone e alle società cambia parecchio, perché per esempio adesso stiamo valutando un po' quello che ha fatto la Spallo, quello che ha fatto l'Alessandro e la Cremonese cambiano le cose, anche se noi non abbiamo esattamente le cifre, però sappiamo che ci sono investimenti diversi nei club, in base anche al girone in cui militano le squadre. Questa è un'altra cosa importante. Grazie a tutti.